Buonasera Vabbè ma che stai facendo? Sto facendo il pulis Che farina stai usando? Divella Se sei bravo ci vuole anche Se lo devi sapere fare anche con Divella Scusa Diamo un attimo la ricetta Divella Quanto l'hai pagata? 11 euro Ma tu che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Per pizzeria Quella è autorizzata per la STG Per pizza napolana 5 litri d'acqua 5 kg di farina 25 g di viento E come fa caldo Messo 25 g di sale Adesso andiamo per impastare Procediamo Tanto ci vogliono le mani Perché è un preimpasto liquido Guardami un attimo Pulis e non polish Il pulis Oppure la pulis E' un preimpasto liquido Che volgarmente Si usa anche per chiamare Biga liquida Ok Questa la riponiamo in frigo A 4 gradi E la riprendiamo domani Domani pomeriggio Si sente proprio il profumo Mamma mia Profumo proprio del grano Bellissimo Ok Sì e sono A domani ragazzi Quanta coppa? Farina di venna 11 euro e 50 Roberto Susto Ciao bello ciao Ciao